Il denaro non ti arriverà mai se stai fermo a guardare, come le altre persone si arricchiscono. Avrai sempre bisogno di un'idea per fare denaro. Quindi non sperare che ascoltando questo audio tutti i giorni ti cadranno i soldi dal cielo senza fare niente. Questo audio, oltre che a renderti una persona positiva, ti aiuterà a darti la determinazione giusta per inseguire i tuoi sogni, per continuare il tuo progetto, per creare un nuovo progetto, per trovare nuove idee. Ricordati sempre che devi agire. E soprattutto ricordati questa frase, non c'è successo senza rischi e sacrificio. Se vuoi approfondire l'argomento, clicca nel link qui sotto in descrizione. Puoi ascoltare questo audio dove vuoi, a parte quando devi condurre veicoli, e quanto vuoi. Per maggiori benefici, consiglio di ascoltare l'audio per un periodo minimo di due o tre mesi, con delle cuffie auricolari mentre ti rilassi sul tuo letto o di mano. Sono grato del denaro che ho, posso e mi permetto avere denaro nella mia vita. Sono una calamita per il denaro. Adoro il denaro e il denaro adora me. Attraggo ciò che sento ed è per questo motivo che mi permetto solo pensieri positivi che mi generano tranquillità e felicità. Il denaro è una fonte normale e permanente nella mia vita. Posso attrarre il denaro che voglio in maniera semplice. Mi sento degno di più denaro nella mia vita. Posso e mi permetto avere denaro nella mia vita. Mi sento bene con il denaro che ho. Il denaro viene velocemente a me. Il denaro è una risorsa inesauribile nella mia vita. Sono una persona produttiva. Posso e mi permetto essere un investitore di successo. Tutto ciò che faccio ritorna come fonte di ricchezza nella mia vita. Le mie entrate aumentano costantemente. Sono grato per la mia vita. Posso e mi permetto creare business di successo. Ringrazio la vita per la grande ricchezza che ha messo sul mio cammino. Amministro sempre intelligentemente il denaro. Vedo nuove opportunità per guadagnare denaro. Posso e mi permetto avere una vita fiorente e abbondante. Posso e mi permetto avere idee che generano denaro. Attraggo la mia vita più denaro di quello che sogno. Il denaro è il mio amico e il mio alleato. Posso e mi permetto di essere milionario. Ho sempre idee in testa che generano denaro. Vedo opportunità di business da tutte le parti. Guadagno denaro tutti i giorni a tutte le ore. Guadagno denaro tutto il tempo incluso quando riposo. La mia mente subconscia è programmata per attrarre denaro. Accolgo con allegria e gratitudine il denaro che ricevo. Sono creativo, intelligente e con talento. Trovo sempre soluzioni per guadagnare denaro. Mi piace creare idee per guadagnare denaro. Ho sempre idee per guadagnare denaro. Sono una persona di successo. Io sono il mio successo. Le mie emozioni e i miei pensieri sono perfettamente allineati con la fonte di ricchezza dell'universo. Vedo nuove opportunità per guadagnare denaro. Il denaro mi dà la libertà e tranquillità che completa la mia felicità. Scelgo una vita abbondante e fiorente. Il denaro arriva a me instancabilmente per diverse fonti. Le idee per fare denaro arrivano facilmente a me. Io sono destinato ad avere successo. Cose meravigliose mi accadono costantemente. Affronto le sfide che arrivano nella mia vita. La ricchezza è qualcosa di divino. Sono ogni giorno che passa più magnetico al denaro, alla prosperità e all'abbondanza. Sono una calamita per il denaro. La mia energia è aperta e fluisce in tutte le aree della mia vita. Ho sempre più denaro di quello che ho bisogno. Ho molta fortuna nella mia vita. La mia fortuna è infinita. Sono grato per la vita. Il mio destino è guadagnare e trionfare. Ogni giorno che passa sono una persona migliore. Ogni giorno che passa sto sempre meglio. Io vivo nella prosperità, nel successo e nell'abbondanza. Il denaro e il flusso di abbondanza viene liberamente a me. Attraggo solo cose buone nella mia vita. Sono una persona coraggiosa, straordinaria e felice. Tutto il denaro che spendo torna a me moltiplicato. Valgo molto e merito il meglio. Sono disposto a ricevere tutte le cose buone della vita. Mi sento bene con il denaro che spendo e so che ritorna moltiplicato. Ho prosperità, successo e abbondanza in tutti gli aspetti della mia vita. Il mio denaro è una fonte di benessere per me e per gli altri. I miei risparmi e i miei investimenti agiscono come una calamita per attrarre più denaro. Vedo nuove opportunità per guadagnare denaro. Sono finanziariamente indipendente e ho successo. Il denaro è in arrivo per aumentare la mia ricchezza e la mia prosperità. Ho grandi quantità di denaro nella mia vita. Io scelgo di vivere una vita abbondante e di successo. Trovo sempre nuove idee per attrarre denaro. Sono un eccellente investitore. I miei investimenti moltiplicano il mio denaro. Sto sempre guadagnando denaro. I miei business sono di successo. Vedo sempre nuove opportunità per guadagnare denaro. Mi piace creare idee per guadagnare denaro. Ogni giorno sono sempre più produttivo. Ogni giorno sono sempre più intelligente. Possiedo i migliori strumenti per trionfare. Sono destinato a trionfare. Il destino viene a me. Il denaro che investo si moltiplica costantemente. Il denaro che investo generano grandi guadagni. I miei business mi generano ricchezza. Risolvo tutte le situazioni facilmente. Io posso raggiungere tutte le mie mete. Il potere della mia mente è straordinario. Scelgo di essere una persona di successo e vittoriosa. Sono un vincitore. Posso e mi permetto raggiungere tutte le mie mete. Ho una mente sempre positiva verso il denaro. Mi sento bene con il denaro e la ricchezza. Il denaro è nella mia vita e continua ad aumentare. Ho sempre pensieri positivi. Ho sempre pensieri positivi. Sono una persona intelligente e imparo velocemente. Ogni giorno sono sempre più intelligente. Scelgo di riempire la mia mente di pensieri positivi. Ogni giorno sono sempre più creativo. Non mi arrendo mai. Non mi arrendo mai. Ogni giorno sono sempre più forte e coraggioso. Sono una persona coraggiosa e straordinaria. Ho più soldi in ogni investimento che faccio. Ho più soldi con ogni business che inizio. Sono un investitore di successo. Tutti i giorni guadagno quantità immense di denaro. Attraggo grandi quantità di denaro facendo ciò che mi piace. Vivo nell'abbondanza, nel successo e nella prosperità. Mi concentro negli aspetti buoni della mia vita. Le soluzioni arrivano nella mia mente facilmente. Attraggo successo inconsciamente. Sono felice e grato per la mia vita. Ho abbondanza e ricchezza nella mia vita. Ho grandi quantità di denaro. Sono felice e grato per quello che ho. Guadagno denaro facendo ciò che mi piace. Le mie entrate aumentano costantemente. Moltiplico il denaro che ricevo. Sono una persona efficiente. Sono un vincitore. Mi piace la ricchezza e il denaro. Attrago denaro e prosperità inconsciamente. Mi sento bene con la ricchezza, abbondanza e prosperità. Mi sento bene con il successo e il denaro. Vedo sempre il meglio in tutte le circostanze. Sono una calamita della fortuna. Ho una mente da persona di successo. La ricchezza è nella mia vita e si moltiplica. Ogni giorno sono più ricco e mi permetto di esserlo. Guardo sempre nuove idee per poter guadagnare. Mi diverto creando business. Scelgo di avere denaro nella mia vita. I miei sogni si realizzano facilmente. Vedo opportunità di business di successo costantemente. Mi concentro nelle cose positive che mi succedono. Ho una mente potente. Risolvo tutto facilmente. Ho molto oro nella mia vita. Sono un eccellente investitore. Ricevo denaro nel mio conto corrente bancario tutto il tempo. Trovo sempre altri metodi per guadagnare denaro. Guadagnando denaro sono una persona creativa. Ho sempre nuove idee per guadagnare denaro. Ho sempre nuove idee per creare business facilmente. Ho sempre nuove opportunità per guadagnare denaro. Attraggo sempre il denaro nella mia vita. Ho grande fiducia nella mia capacità. Sono un vincitore. Ho molto denaro nella mia vita e continuo ad attrarne di più. Accetto la ricchezza nella mia vita. Ho sempre pensieri positivi. Io posso raggiungere qualunque meta facilmente. Le mie mete e obiettivi si compiono sempre. Utilizzo il potere infinito della mia mente per attrarre tutte le cose buone nella mia vita. Merito il meglio per la mia vita. Ho fortuna in tutti gli aspetti della mia vita. La fortuna mi accompagna sempre. Il successo e la fortuna fanno parte della mia vita. Sono una persona grata e fortunata per quello che ho. Raggiungo sempre i miei sogni. Ottengo tutto quello che voglio. La vita mi regala tutte le cose positive che voglio. La mia mente attrae tutte le cose buone alla mia vita. Mi diverto guadagnando denaro. Vedo opportunità per guadagnare denaro giornalmente. Le mie idee sono di successo e mi generano sempre denaro. Ho solo pensieri di successo, prosperità e abbondanza. Attraggo più denaro di quello che sono. Mi circondo solo di gente positiva. Mi circondo di persone di successo. Le mie entrate sono infinitamente superiori alle mie spese. Tutto nella mia vita prosegue come deve. Mi sento bene con il denaro. Sono una persona intelligente. Oh salute, amore e denaro illimitato nella mia vita. Ringrazio la vita per la mia famiglia e la mia ricchezza. Sono una persona positiva. Mi concentro solo nelle cose positive. Vado sempre avanti qualsiasi cosa succeda. Ho solo pensieri positivi. Ogni giorno sono una persona migliore. Ogni giorno sono più intelligente, creativo e produttivo. Il denaro arriva nella mia vita facilmente e velocemente. Sono una persona fortunata. Affronto le sfide che arrivano nella mia vita. Sono un eccellente investitore. Mi permetto di essere fiorente di successo e felice. Sono una persona di successo, fiorente con molto denaro e felice. Ho una vita meravigliosa. Ringrazio per tutto quello che ho. Mi permetto solo pensieri che generano sentimenti positivi. Sono grato per la mia vita. Meditazioni guidate. A presto.